Questo è il canale di MakeupBrain35, benvenuto! Ciao ragazzi, ciao ragazzi! Ecco! No, riproviamo! Ciao ragazzi! No, sbagliate! Riproviamo! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Mamma mia! Come si tratta? Fini del video! Bravo! Bentorniamo! Dite, dite, io non mi so... Due, tre! Da me sono fatto male la testa un sacco di volte qua, tanto io... no, faccio apposta! E' normale, è normale! Faccio apposta per farti perdonare, per farti dire mamma mia! Sorella, ascoltami! Farsi personale! Bentornati in un nuovo video! The snack americani! Yes, America, di nuovo americani! In questo video oggi abbiamo anche il nostro amico Fru! Gianluca, Fru, Fru! Fru, Fru! Ciao, Fru! Buongiorno! Giuseppe! Sei tu? Luca! Giuseppe! Un piacere! Se ti iscrivete al mio canale, vincete un euro! Iscrivetevi! Cioè, no, è il primo canale... Un euro, ragazzi! Non mandare più! Due euro! Due euro! Due euro! Luca, ma ti ricordi quell'altro video che noi dobbiamo facciare? Ma voi cosa pensate? Che noi quel canale abbiamo abbandonato? No! Sì! Però, però, però... Però... Siamo ancora ancora! Allora, abbiamo deciso che lo faremo tipo... E mi sentiamo i video che stanno su Facebook, i 15 secondi, di quelli che mangiano le schifezze... Eh sì! Eh sì! Sì! Eh sì! E le cose di panutella... Ok, prego! Sta bella! Oggi proviamo! Sì! Io perfino! Inizio! Ah, subito! Sì! Agli Sniders of... Hannaway! Eh! Ma dove la vedi? Hannaway! 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 Gusto! Gusto! Bufalo! 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 Grande Bufalo! Grande! Al Bafalo! Al Bafalo! Al Bafalo! Sì! Ma scusa, ma il Bufalo non ha le ali? Ma lei che sa... No, ma è il Bufalo! È Bufalo! Perché è il Bafalo? Bello, bello, bello immagino, tipo bucche che volano... Bufalo è il nome di una... Se tu apri questa cosa... Escono le bucche... Ah! Bufalo è tipo... È aletti di bullo, è... Aletti di buco... Aletti di buco... Aletti di buco... Aletti di buco... Escono pure le bucche... Ma quante cose sa? Escono pure le bucche! Ma quanto intelligente questa scienziata fa? È bucle! È bucle! Hai bucle! Hai bucle! Allora... Allora... Sa di... No! È il casiccio! No! Ma sai che non mangiare! Sa lei non mangiare! Allora, sa di piccante! Inizia a sapere di piccante! Qualcosa... Che è il seco? Ma che... Che forma hanno? Uno! Oddio, uno, due, tre! Buono! Mmm! Mmm! Oh! Che schifo! Si sa che il peperoncino? Sono leggermente... Ah! Pretzel pieces! I pretzel sono... Quelle cose tedesiche! Però... Ha spazzato! Un pochettito brutto! Spazzato! Biscottini di... Prezzo! 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 Pretzel biscottosi! Prezzo! Sono sempre fatti per me! Sono piccanti? No! Non tanto! Sono leggermente piccanti! Però per check! Se siete dei calabresi che mangio... Lo so! Pane e peperoncino alle... 5 del mattino! Allora! Non sentirete nemmeno il peperoncino! Per me sono piccanti al punto giusto! Cioè io mangio piccanti... Di tanto in tanto! E mi piace! Ma ha detto! Per me ne sono troppo piccanti! Se ne mangiati 20! Ascolto! Come vedete! Makeup Dream è una... Sono veramente speziatissimi! Una garanzia! Si si! Ma sono buoni! Ma sono troppo di finto! Ma sono buoni Gianluca! Si ma questo è buono! Quindi... Ci piace? Ci piace! Guarda che bello! Sono labricose! Un'altra busta della stessa compagnia! Dello stesso marchio! Come è? Snyder's? Snyder's! Ma sono buoni dalla faccia! Ecco! Prezzo! Dalla faccia! Ok! Dalla faccia sei buono Gianluca! Così! Questi sono a prezzels sandwich! Cioè! Quelli erano prezzels spezzati! Questi sono... Prezzels! Al... Sono mini prezzel uno super l'altro! Prezzel al... Al formaggio! No! 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 Alla... Qua! Alla... 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 E' buonissimo! No! E' buonissimo! Alla... Beh... Questi sono dolci! Non ti dico qualcosa ci hanno proposto! Alla... Che belli! Si! Mi ispirano molto questi! Ma come belli! Sono... E' eh si sono... L'aspetto si! Uno, due, tre... Maah! troppo bene buono allora io ho una teoria posto francia di scatti non percepisce i sapori per lei fa distinzione si può mangiare non si dice è commestibile non è commestibile basta ho i sapori oggi ci mangiamo spaghetti cozze e fragole ah buono le cozze non piacciono un'altra cosa ma quante cose scubb secondo me è confermata questa teoria perchè in un video dei cioccolatini americani per l'altro mangiavamo cioccolatini di diverso gusto ma io penso che sei buon stesso ma io penso che sei buon stesso ma io penso che sei buon stesso allora per capirci ti senti gli snack quelli la come si chiamano? quelli la quelli snack salati che ti danno al bar si 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 aperitif quella ha la forma di pretzel quello poi a me ci sta il peanut butter ma è bruttissimo allora no io amo il peanut butter con delle cose dolci esatto associato a cose salate no quindi a me non è piaciuto tantissimo però se dovrei consigliarlo ovviamente una volta nella vostra vita provatelo è buonissimo come? ce ne sono altri ragazzi altri ragazzi altri snack americani noi mangiamo solo snack questo è il nostro pranzo però pure per domani non ce li dovrà per chi ecco qui vieni tutto tuo ok il cioccolato ah no ho letto alle noccioline ma quelle noccioline alle mandorle alle mandorle ah ci sono le mandorle di giustamente si no i pensi fossero fuori e tu poi ce le no no Gianluca prego servitevi buonasì 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 signorina io che facciamo mangiamo aspetta allora cioccolato alle mandorle 1 2 3 via vai mmm la cioccolata riesce a essere è buona non hai capito questi americani vabbè comunque ragazzi ottimo buonissimo diciamo che ragazzi ci piace subito ci piace è il cioccolato o le mandorle cioè se non vi piace siete buzzate buzzate ecco mmm no la cioccolata parla da se è buonissima mmm americanissima una leccornia mmm andavanti ok andiamo avanti ho colpito il sole vieni già aperta ah questa è una bella storia questa è un'altra allora allora una bella storia raccontiamo questa storia ciao mi vado abbiamo trovato che è andata via questa cioccolata ciao ciao ho trovato vuota questa parte di cioccolata metà cioccolata e qualcuno qualcuno nella mia famiglia chi chi ma chi sarà mai c'è qualcuno ha già provato questo tipo di cioccolata c'è qualcuno di nascosto ha mangiato questo cioccolata che sarà secondo me sono stati cani sono stati cani si vuoi qualche sospetto no i cani l'hanno presi intenzionalmente da un po' non so niente io 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 mi tolgo da mezzo vabbè e comunque vabbè l'assaggio lo stesso la e che gusto è cioccolato no biscotto e cioccolato cioccolato ma è biscotto e cioccolato si cookies and chocolate no no l'inglesine ok no è carina questa si è molto piccina tu te la sapevi già com'era no no non so niente io non so mai niente no con il nome hareschiave un biscotto 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 invece nell'altro video mi hanno fatto mangiare patatine all'aceto patatine ai funghi formati senza anche come un po' cioccolato l'hanno fatto a posto questo io vi invito da make up dream 35 venite tutte tutte tuttavia mi sono però anche se abbiamo provato quasi mezza mezza america abbiamo comunque tanto 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 da provare è già finita era solo metà ma come mai eh come mai quelle guardi quella è la carta è la carta che si era mangiata non vedo l'ora di invitare tutti youtuber a casa mia si tutti quanti anche qua c'è già Luca fru fru l'ora di snack a meta ma come che mi hanno snack a meta ma può essere che ne so io ma eh se lo mancano per la quelli la che portano qua i patti si ah quello veneto dici tu quanto fa quello dell'america dici tu sai quanto fa ma comunque ma comunque buonissimoo ci piace per vedere, per vedere, per trovare questi, si ci piace, si ci piace, buonissimo, per trovare quindi questi snack vi lasciamo il sito nell'info box, per trovare questo individuo, caro amico, caro amico dei, oppure se siete da bc cliccate sul suo visino, sull'asino, così, così, ok, allora vi dobbiamo salutare, ragazzi io vi saluto, vi ringrazio, allora ricordate sempre che nella vita dovete essere sinceri perché altrimenti, e tante pesci, auguri, ciao, 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 mangiate la pranzo cena e, la notte quando vi svegliate alle 2, però se vi svegliate alle 2,5, no, no, va bene, alle 2, alle 2, perfetto, c'è scritto pure qua, vedi, mangiano, c'è scritto, si, si, mangio alle 2 e ti sentirai bene, e ti sentirai fino a te, andai in bagno e farai tanta cacca, tante pesci, oh mio dio, mi sono andato a me, no, mi emozionino da 3, 3, 1, tante pesci, ma no, bello, io me lo so, pure sti marone, per avere la pubblicità della cacca, in realtà questo ne si chiama, wow, questo ne si chiama la pubblicità della cacca, Gianluca, Gianluca, io ti invito a venire più spesso a questi video, a fare la cacca, a venire a fare questi video perché, io faccio tanta cacca, a parte che mia sorella parla italiano e quindi è un evento, perché, 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 c'è Gianluca, bravo, bravo, Io da uno scienziato, dovete sapere